Il diritto di precedenza è indicato da un cartello di forma triangolare, bianco con cornice rossa e punta rivolta verso il basso. Saper dare correttamente la precedenza è uno dei precetti fondamentali di una guida sicura e comporta tra le altre cose il non rispettarlo correttamente la decurtazione di 5 punti dalla vostra patente. E quindi sono ancora moltissimi gli automobilisti e guidatori di motociclette che non conoscono le basi fondamentali dei diritti di precedenza e causano gravissimi danni, soprattutto moltissimi incidenti. È un suggerimento che può sembrare forse banale ma laddove non esiste nessun cartello ricordate sempre che la precedenza va data a chi proviene da destra e questo vale anche per chi si mette all'interno delle rotatorie. Per tutti gli altri casi invece ci sarà un cartello specifico ad indicare chi è titolare di tale diritto. E' bene però ricordarsi che se si passa da un luogo privato a un luogo pubblico la precedenza va data a chi si trova già sulla strada e che in strade strette e con forte pendenza la precedenza va data sempre a chi si trova in salita. Ricordatevi quindi che chi procede verso la valle dovrà accostarsi, fermarsi e far procedere con lui che sale.